Pensate ragazzi, la stagione 2013-2014 fu la più grande di sempre grazie a Sky. Lo sport raggiunse la sua massima evoluzione quell'anno. C'erano tutte le partite di Serie A e della UEFA Champions League in HD. E non solo, c'era il grande calcio internazionale con la Bundesliga in esclusiva. Incredibile, vero? E i Gran Premi? Solo su Sky erano tutti in diretta, anche su Sky Go. Ma non finiva qui. C'erano anche le Olimpiadi Invernali e tutta la MotoGP 2014 in diretta esclusiva. Per questo quella stagione ha fatto storia. Forza, andiamo! Sarà una stagione indimenticabile. Da 29 euro al mese per 12 mesi. Solo su Sky.